benvenuto arieta andiamo a chiedere alle mie carte quali novità ci saranno nella tua vita con un occhio particolare alla sua vita affettiva sentimentale potremmo vedere non so se sei in coppia ma anche il rapporto con un amico con un genitore con un figlio insomma rapporti in genere non tutti sono fidanzati o stanno presentando qualcuno ok a vedere per la riete che novità ci saranno segno zodiacale ariete la crescita growth mi voglio espandere per la riete segno zodiacale della riete qui ne volevo una comunque qui c'è il il coraggio e la solitudine ma il coraggio della solitudine quindi già parlano già parlano da sé queste carte qui c'è una riete alle prese appunto con la solitudine potreste aver chiuso un rapporto o essere in fase di chiusura o più semplicemente stai affrontando te stesso te stessa diciamo ci potrebbe essere la riete in una fase di crescita personale nel senso che impara trova il coraggio di stare da solo ecco questo è un po questo è un po il discorso ma vediamo gli oracoli poi proseguiamo con il nostro discorso per la riete qui senz'altro ci si sente soli qui in quel senso un po di solitudine c'è però c'è anche insomma la volontà stavo dicendo di andare avanti e infatti qualcosa di nuovo si manifesterà avverrà alla luce quindi qui un qualcosa che manifesti c'è a riete vedi rifletti e valuta bene ci si muove con impeto e velocità classico dell'ariete la velocità non può aspettare l'ariete vediamo per la riesce aia non vedo non sento non parlo per la riesce devi lasciare andare eccola quindi qui c'è una riete lo dice la parola deve lasciare andare e qui c'è la solitudine qui c'è un rapporto che si va a chiudere o che si è già concluso è attenzione ecco perché forse le carte ci parlano anche di crescita e di coraggio il rapporto magari si è già chiuso poi vedi qua qui c'è il fermo proprio e il come dire questo è un rapporto che non che non va più ci potrebbero essere stati dei litigi dei malintesi delle aggressioni addirittura verbali insomma qualche discussione che ha ferito insomma qui vediamo i tarocchi vediamo i tarocchi che dicono quindi qui insomma le carte penso siano abbastanza chiare qui un rapporto potrebbe arrivare al capolinea dopo un periodo anche di crisi se vuoi dopo un periodo di crisi che abbiamo già attraversato vediamo per la riete il segno zodiacale della riete ok vedi guarda il quattro di spade che bene o male anch'esso mi richiama la mi richiama proprio la solitudine la solitudine andiamo a vedere potrebbe esserci la riete che si chiude in se stesso proprio come posso dire per arrivare no se vuoi anche ad una decisione perché qui c'è anche la riflessione la valutazione di una certa situazione il che è tutto dire perché insomma la riete solitamente è molto più istintivo va molto più a istinto va a pelle insomma no però vediamo ariete vedi ma guarda qui c'è qui c'è una riete che sicuramente s'allontana s'allontana da una situazione però però allora qui fanno vedere dopo un periodo infatti 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 il 9 di coppe del taglio quindi qui qualcosa di buono di assolutamente positivo per la riete qui c'è anche da questa chiusura sembra impossibile lo so sembra anche esattamente guarda esattamente io credo che la riete si allontani da una persona e vada dritto dritto nelle braccia ad un'altra qui c'è la chiusura ad un rapporto e l'apertura ad un altro quindi solitudine ma per poco tempo secondo me cioè qui c'è proprio l'abbandonare il terreno l'allontanarsi da una situazione che non va più che non va più dare la schiena quindi abbandonare questo questo discorso lasciare andare un qualcosa che magari avevamo come ti posso dire protratto prolungato insomma avevamo tentato fino in ultimo non so se mi spiego va bene però poi alla fine qui si va verso qualcosa poi qui c'è anche la regina di la regina di bastoni che insomma mi richiama il tuo segno mi richiama i segni di fuoco va bene il papa insomma sono carte molto molto belle quindi qui c'è una riete che sicuramente sicuramente ritroverà il coraggio la voglia di vivere di riprendersi ma io lo vedo proprio andrà passare da una situazione all'altra andiamo a vedere che c'è l'arietà che c'è l'arietà qui c'è la chiusura del rapporto e l'apertura ad un altro qui si va ad una chiusura la riete dice basta dopo averci riflettuto per l'amor di dio ci rifletterà e ci si reca verso qualcosa d'altro verso una persona che sentiremo magari anche più affine più affine con noi ora non so se ci sarà subito se avverrà subito se avverrà dopo un po di tempo no fra la fine e l'inizio però qui c'è proprio una riete che effettivamente lascia una riete che lascia andare che basta come dire un ne posso più accidenti no no qui c'è una riete che sicuramente ritroverà la sua voglia di vivere il suo entusiasmo il suo fuego la sua passione quel desiderio proprio di fare no sicuramente però per far questo o almeno prima di questo qui c'è proprio l'abbandono di una situazione che ci rendiamo conto non non ci porta più a nulla vediamo per la riete guarda è infatti l'imperatrice come risultato diciamo come nocciolo di tutta la situazione quindi qui c'è una riete che riprende a piene mani la sua vita la 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 il controllo diciamo della sua vita qui c'è un qualcosa di nuovo a a cui ti potresti dedicare per la riete per la riete si guarda lanciati sicuramente lanciati in questa nuova avventura della sua della sua vita e non parlo di un uomo di una donna l'avventura quel senso nel senso riprenditi in mano la sua vita il controllo della sua vita buttati vivi cerca di tornare la riete eri ecco queste sono le parole che secondo me cioè secondo me che loro mi dicono ok deve ritrovare quell'energia quella quel desiderio di vivere di creare di essere quello che eri tornare un po a quello che eri alla situazione che avevi diciamo prima di entrare in questo ginefraio praticamente qui vedo una riete un po solo come se si sentisse veramente isolato lasciato solo in un certo modo un po raffreddato anche se vuoi una riete un po senza entusiasmo no po non posso dire la parola che penso veramente però sono un po un po si vedi qui non so qui magari c'era stata fatta una promessa ci eravamo impegnati in un qualcosa abbiamo dato tanto ad una determinata situazione che però a nostro dire non ci ha ricompensato non ci ha dato quello che noi avremmo sperato ci saremmo augurati ecco questo è un pochino il commento che ti posso dare però insomma qui c'è la ripresa della del desiderio dell'entusiasmo di quella voglia di fare ecco io qui lo vedo lo vedo lo recupererai sicuramente vedi la regina di coppe con l'asso di bastoni il mondo che mi è uscito rovescio quindi non sarà tutto quello che vorremmo noi nel modo in cui lo vorremmo noi e tutto quello che ti pare però insomma capito qui diciamo che ci potremmo indirizzare verso qualcosa di nuovo qui c'è uno stop a cui la riete è andato sta andando insomma sta andando incontro quindi si trova sto muro si trova sto stop e deve per forza deviare però qui c'è un qualcosa di nuovo che tutti potresti inventare a riete parlo ovviamente sempre nei rapporti rapporti affettivi quindi qui le carte non sono non sono male c'è da lasciarsi dietro un qualcosa questo sicuramente quindi magari può lasciare un attimino così però insomma il coraggio se vuoi mi parla proprio di passione di passione di coraggio di entusiasmo una riete che torna a fare la riete vedi che cosa significa nella tua vita sicuramente lo capirai va bene riete io ti auguro in bocca al lupo fammi sapere che cosa stai vivendo e noi ci vediamo al prossimo video ciao riete eccoci qua vi lascio ai miei vi... no